E' stato confermato l'ergastolo per Pasquale Cammarosano, ex direttore della filiale di Posti Italiane della frazione Massa di Vallo della Lucania, colpevole dell'omicidio di Carmine Novelli. La sentenza è definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato le precedenti contanne inflitte in primo grado e appello nei confronti dell'unico imputato per la morte dell'agricoltore, 57enne. Cammarosano fu arrestato nel 2009 perché accusato di aver sottratto denaro dei conti correnti postali di ignari clienti dell'ufficio, da lui diretto a manchi sui propri libretti che i correntisti denunciarono ai carabinieri e che portarono all'apertura del procedimento giudiziario che ha visto la costituzione di 38 parti civili già in parte risarcite da poste italiane. Poi un'altra brutta storia, quella relativa all'omicidio di Carmine Novelli nel 2001. Alla base del delitto dell'agricoltore, 57enne, sarebbe la volontà di Novelli di denunciare Cammarosano in seguito alla scoperta di un ammanco di quasi 150 milioni di vecchie lire sul suo libretto postale, determinanti le impronte digitali lasciate sul sacchetto della spazzatura nel quale fu ritrovato il corpo di Novelli.